Grazie a tutti. 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 Arbitro! 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 Sì, 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 dai ragazzi. Andi! 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 Dai ragazzi, cazzo! Andi arriva così, eh, Andi... Andi! Presa, su, sotto! Vai! Andre, Andre! Ale, Ale, Ale solo! Sì, vieni in contro, Nelvi! Ti amo, ti amo, ti amo! Non abbiamo sponomeno, il ruote, non abbiamo messo. Dai, 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 dai! Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non c'è oggi? Non so perché... 2-2, 2-2, arriva di niente... Fuori, fuori! La cava dove vai? Erri, Erri, ancora! Si c'è, 3-3, presa! Ah! Che succede? Occhio, Steve Wicci! Vabbè, passiamo a dire... Bravissimo! Bravissimo! Che è ridotto, no? Masso, scaduti! Masso! Scadri! Massa! Massa, fai del CPL in mezzo alla difesa! È successo! Storta? 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 Ah, cavolo! Quindi botta! Bravo, Luca! Ale, se vuoi, Ale, se vuoi! Occhi in mezzo, occhi in mezzo! No, non botta! Buon c'è tutta! Guarda! Guarda! Guarda, Henry! Guarda! Cava, farti da un incontro! Chi è? Cava, da un incontro! Eh! Arriva! Solo! Vai te! Chiudelo, chiudelo! Cava! Cava, porco Dio! Dai, 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 dai! Ale! Corra! Bravo! Bravo, Franci! Gira, gira, gira! Gira, gira, gira! Forza! Non battere tu! Vieni qua, largo! Vieni, largo! Vieni, largo! Dai, cava! Il tip ce l'hai in mezzo, eh! Occhi, raga, eh! Occhi! Occhi! A sinistra! Qua! Non la rifascia, non è roba tua, Fabra! Non è roba tua! Sempre tutto in mezzo! Escutala! Fuori! Uno stop! Calma, calma, calma! Vieni, calma! Vieni, calma! Vieni, calma! Dai, raga, dai! Fuori! Cortes! Bu,asha, qua, dai! Chiudin! Chiudin! Davide, all' Aspora! Cari, dai, dai, dai! Chiudin! Quina bassa, eh! Parola! Guarda,hehe, passa tutto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uno solo sotto, uno solo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Puoi predipendere il più forte che c'è? La guanza si vede. Puoi predipendere il più forte. Puoi predipendere il più forte. Puoi predipendere il più forte che c'è? Puoi predipendere il più forte. Puoi predipendere il più forte che c'è? Puoi predipendere il più forte che c'è? Puoi predipendere il più forte che c'è? Puoi predipendere il più forte. Puoi predipendere il più forte che c'è? 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 monitoring. Sì, ci arriva. Sì, ci arriva. Sì, ci arriva. Ma non mi è. Ma non c'è mai un uomo che è. Dai ragazzi, dai! Non siamo 14. Sì, ci arriva. Ti gira Yaci. Bravo, Romy. Dai, dai, dai. Bene, va bene. Dai, Ale, venga. Dai, ci sta. Vai, Carlo. Vai, vai. Grazie. Yaci. Questo dio. Zio, zio, non è. Ma lo puoi mettere anche sulla pelle. Io lo metto sulla pelle. È di Harry. Vediamo, domani mi so dire. Domani mi esce il partito. Eh, bravo, è l'idea, bravo. Occhi aperti, mi raccomando. Paura. Andre Calvo. Che giocatore. Che giocatore. bravo, bravo. Con serenità in campo. Non ti chiamai con nessuno. Non ti senti. Ti vengo sopra, ti vengo sopra, ti vengo sopra. Ti metti. Guarda, guarda. Mamma come hai fatto paura, santo! Spaventato. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Sono di persone. Sono di 300. Sono di persone o no? Ci cazzo. No. Perché cazzo. Vai con lì, mi non sto da giocco. Vamò, vamò. Harry, se vuoi. Bravo Harry. Ancora, ancora. Bravo, vada. Vada, vada. Vada, vada. Vada, vada. Siamo insieme raga, si savi! Guarda, dai! Sì, sono allassato! Vola, vola! Vola, vola! Tirala, tirala! Bravo Andy! Dietro, dietro! Guarda Andre, guarda Andre! Provala, provala che ce l'hai! Andy, Andy, fatti vedere, Andy! Raga, andiamo in tre su questo e su! Buono, buono! Sulio! Buono, buono! Spingi, spingi, spingi! Spingi, spingi, spingi! Spinta! Spinta! No, Paolo rimane a casa! Spinta! 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 No, si prova là. Sì, no. Dai, 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 dai! E' il suo fratello non lavora a New York. Sì, no? Ah, il suo fratello. Stai a me l'abbia detto. Stai a me l'abbia detto. Stai a me lì, stai a me lì. Va bene, va bene, va bene. Questo è un bel aerellino Alberto. Non è bene. No, no, no. Allargati, dai, ti allargati. Dai bene, stai salendo. Non riesco a farlo a passo. Dai, raga, noi ridiamo, noi ridiamo, ridiamo. Ci sei? Sì. Come va? Vai a destra. Passa in vento, vai a destra, vai a sinistra. Venga! 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 Secondi! Vai, vai, vai! Venga, vai! Venga, venga! Venga, venga, venga! Concentrati! Venga, venga, venga! Fuori! Fuori, come va! Fuori, siamo venuti dal giro! Guardino qua! Voliti il giro della cintura. E qui live, in cima era il giro! Facciamo alternare per i tool poi mette laantesca! Guardi la complerenza, via! Doviti una differazione! Prot south, via! Grazie. Spazio, spazio. Spingi, locca, spingi. Occhio! Grande Steve! Bravo Steve, grande. Bravo Beppe, concentrato Beppe. Bravo Beppe, stai, 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 stai. Andre, Andre, allarga qui, Andre. Ma qua ti diamo. Beppe, Beppe, allarga. Però fatti cosa. E inizia. Andre! Così l'ho passato che è... Questo mi piace giù. No! Prova, ci si muore, ci muore. Adesso. E' un tecnico per fare il tempo che vede la gol. Bravo, dai. Non ce n'è più. Non ce n'è più. Non ce n'è andare di là. Non ce n'è mai. Non ce n'è mai. Un minuto di recupero, signori. Quando la palla ritorna in campo, un minuto è finito il primo tempo. Si ha messo la fine del recupero. Un minuto. Non ce n'è mai. Non ce n'è mai andare perché... Finito il primo tempo? O meglio, primo B. Finito il primo tempo? Un minuto. Cos'è la palla? Si è finita o no? Un minuto. Un minuto. Se la palla rientra, recupera un minuto. Mi raccomando, rientra. Un minuto da adesso. dai ragazzi, forza, dai, complica! complica! Marco, vai tutto! giocala, giocala! giocala! gavarri! da solo, da solo! ancora, ancora, gioca! gavarri! dai raga, stai, stai! spingi, spingi tu, spingi tu! è meglio largo eh! spingi tu! dai in mezzo dell'ultima azione! Simo, vieni qua! tutto, Ia! guardi stritte! parca dio! una chiedela, solo tu chiederò! grande, Steve! dai, ancora l'ultima! dai, ancora l'ultima! dai, ancora l'ultima! dai, ancora l'ultima! dai, ancora lì! la grande classica! dai, ancora lì! dai, ancora lì! la grande classica! dinamore! anche con l'ultima! dai! dai, ancora lì! dai! dai! subito, adesso... adesso... questo... Forse con i mezzostacoli di ogni giorno. Bravo! 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 Dai! Andi! Bravo Beppe! Rimani, rimani Beppe! Eh non mi sono... Marco, Marco! Sì sì! Sì! Vai su bassa! Bravo, dai! Cosa li fa? Sì, però faccio bene. Non c'è l'ultimo, ve lo faccio bene. Marco, Marco, Marco qua eh! Bravo Carlo! Dai, dai, dai! Pelo meglio eh! Pelo meglio eh! Pelo meglio raga! Cosa stiamo giocando? Va bene, va bene, dai! Tempo! Non ammette. No, è aperta. No, è aperta! No! 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 No, è aperta! No! 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 Quanti chilometri fai con questa... Fuori! Otto e mezzo! 8 e mezzo, però. Bella torta. Che callo! Bravo! Bellissimo gol. Oh, raga! Dai, cazzo! Bravo, bravo. Tra due minuti entra vinto. 3-1, visto? Perfetto. Dai, Garlone. Bellissimo gol. Dai, dai, altri due e pareggiamo per il momento. Vedi? No. Se non passa, andiamo. C'è il tempo che fanno. No, ma sì, poi... Scarichi via, scarichi via! Non vedete. Raga, andiamo avanti, eh, la faccia in tirare. Dai, raga, dai! Dai, ragazzi. Continuiamo così, bravi. Bravo! 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 Carlone! Dai, dai! Dai, dai! Bravo, Carlone! Dai, dai! Bravo, Carlone! Dai, dai! Bravi, ragazzi, dai! Un gol e si pareggio. Bravo, ragazzi! Con la testa! Guarda, basta! Continuiamo così, eh! Continuiamo così! Marco, ce la fai? Vabbè, oh! È importante farlo. Vedi? Il primo gol è stupendo. Il secondo è... Bene! Dai, raga! Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai! Copriale, Cava! Carlo, Carlo, destro. Ok, 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 ok Basta! In mezzo! Dai, 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 dai! Luca dietro! Bravo, vedi? Bravo, vedi? Bravo, vedi? Va bene, dai! Andiamo avanti Steve, la facciamo girare come prima che arriva eh! Dai ragazzi, la facciamo girare eh! Gira, Tiendi, Marchino, ce l'hai qua eh! Simo, ho c'ho il 6 eh! 15, grazie, 15! Sì, è finito. Prenditi a Giova! Dai dai ragazzi! E' l'uomo raga! Andi, andi, andi in tre! Andi! Porco di figlio! Andi! E' la squadra! Vai, vai, vai! Vai Simo! Calma, calma! Fuori uno, fuori uno! Dai Simo, Simo, non fermarti! Dai Simo, dai Simo! No! Grande Steven! Mettiamoci come prima però! Marco, Marco! Simo, Simo, mettiti qua! No! Simo, Simo! Simo, Simo! Simo, Simo, Harry! Sì, sì! No! Porta Simo! Sbacca la porta! Ok! Ma che culo! Ma che culo! Guarda là! Harry, Harry, fai l'altro tu! Dai, dai, raga, dai! Aspetta, aspetta, ancora ci siete? Eh, 8 minuti! Mi sono iniziato! Ok, la gamba! Ok, bravo! Ok, bravo! Ok, bravo! Sbacca! Buola, calma! Non mi ce l'hai! Vigna, tieni il top! Calma! Vigna, tieni il top! Vigna! Vigna, prendila bene, prendila! Vigna, non tre ore, però! Vigna! Zio, zio! Zio, zio, zio! Zio, zio, zio! Simo, Simo! Simo, Simo! Il nove qua dietro, eh! Andy, Andy, Andy! Se vuoi adesso! Uh! No, cazzo! 8 o mezzo! Sono passati... 16 minuti, manco! 16, manco! Ma tutto il tempo per recuperare! Tiriamola! Simo, Simo, Simo! Calma, calma! Dai in jetty, dai in jetty! Cambiamola, cambiamola! Subito! Che succede, Carlo? Ancora, ancora! Calma, 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 calma! Bravo! Vieni la sinistra! Bravo, pace! Sicuramente 6-9 ora sta palla! Daniel! Oh no! Posta, fuori! In jetty, fa ora puttarla a suo calme! non c'è gira tu, sei solo dai Simo, grandissimo bravo che filo bravo Pippo bravo Kappa bravo Kappa bravo Kappa raga continuiamo a giocare così con la testa dai cazzo sveglia è tutta questione di testa ho rimontato tra le cose bravi bravi, molto bene continuiamo così adesso però dai bene, bene così, dai bene non è mai mai aperto non l'ha mai data nemmico ciao ragazzi continuiamo dai continuiamo ragazzi dai 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 stai arrivi tag ... andy abbiamo visto con gli 1 2 ecco gli 1 2 andiamo raga li abbiamo tutti stiamo di vi diamo un attimo cambiare andrea no tu ci sei steve appena voi ci sono ci sei stai vabbè 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 aspetto in caso di pareggio cosa hai fatto supplementario andiamo a farla girare henry cerchiamo il 1 2 una piccola torta è una mezza torta c'è un pallone eccolo siamo un minuto non avete fatto segnare pure ho fatto fare un altro che il corpo di gigio ha deviato grande grande bravo dai andy dai andy ma non c'è ma donna santa con tu è scemo voce ci sei dai rimetti Dai Gioce! Dai Gioce! Dai Gioce! Olesio! Buon Villo! Buon Villo! Buon Villo! Di Gioce! Di Gioce! Stai su, stai su! Arriva! Arriva, arriva! Zezio, arriva! Vai Gioce! Vai Gioce! André! 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 Alla prossima torni? No! Ti manca il migliore! Tu la dici? André! 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 Che stai pensando? Bravo! Bravo, dai! Bravo! Bravo, bravo! La dici! Capisco, eh! Vediamo un po', non c'è da fare! Occio, Giggia! prendiamo le braccia aperte in aria dai Vitta bravo dai chi c'è occhio Iachi calma qua cambiamola guarda Vitta strappoli va bene Gigi va bene che arriva rimettiamoci dai dai Henry cazzo dai Henry occhio è i gol ti dai sempre colare che ti va lungo 11 minuti bravo stilo stilo alti il leggo vitta vitta dentro solo 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 ragiona dai 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 testa Steve dai Henry ognuno il suo l'11 qua prendi il 9 prendi il 9 tu il 9 Andy tu il 9 forza cazzo andai dai bene ecco tutta tutta occhio so forno Porca troia! Bravo Filippo, dai! Bravo Gigio! Allarghiamola! Allarghiamola, bravi! Dai Vita, dai Vita Filippo! Prossima nostra campione! Ce l'hai qua eh! Sambio! Sotto uno, sotto uno! Cambiamola! Dai tutto Moce, dai tutto Moce! Arbitro! Buona spalla spalla! Nooo! 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 E vai Ciccio! Dai che si so! Dai che si so! Bravo Farrada! Dai Andre, dai eh! Dai Vita, cazzo! Punta eh! Tanto! Va bene dai! Vai Vita, cazzo! Vai Vita, cazzo! Vai Vita, cazzo! Vai Vita, cazzo! Vai Vita! Vai Ale, sali, sali! Vita Vita, cazzo! Vita Vita, cazzo! Vita Vita, cazzo! Bravo! Facciamoci vedere raga, si è messo in merda! Si è messo in merda raga! Così non ci ha messo giù a posti! Dai, 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 dai! Dai, 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 dai! Dai, 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 dai! Grande, grande, grande! Cosa? 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 Bravo Joe! Vedi? Mi stai concentrato? Tanto! Dai, 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 dai! 7 minuti manco, mi recupero! Oh! No, l'ho fermato! Rimettiamoci, rimettiamoci, rimettiamoci raga! Rimettiamoci! Stai qua, stai qua, stai qua! Stai qua, stai qua! Dai, dai! Giralà, giralà! Yaki, yaki! Punta, punta! Vai, vai, vai! Sì! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bene! Angolo! 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 Dai, Simo! Dai, Simo! Recupera! Parlo! Parlo, Parlo! Come vuoi? Stai qua! Non sono nello stesso! Oh! Stai qua! Alessi a te! Alcia! Bravo! Va bene, va bene, dai! Stai qua! Mettiamoci, raga! Raga, raga! Stai qua! Raga, raga! Facciamo poi, voce! Prossima, cambia! No! Sì! No! Non sono nello stesso! No! Vamo! 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 Non ho capito come successo! dai cazzo concentrati simo 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 raga dai cazzo vai grazie oh raga che cazzo ride poi simo simo aiuto un po e rianchi portiamolo si mancano quattro minuti poi ci puoi spaventare quattro minuti poi c'è un paio di volte e lo so tu fai ok bravo andrea dai 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 punta 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 adesso sta parando tutto adesso ma è marco sta parando grazie sta parando vinta vinta bravo ste bravo ste vai vinta 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 questo lo sai uno solo sotto uno solo dai raga dai dai ragazzi dai ragazzi dai non vogliamo parlo ma è molto bene si può dire allarga 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 ottimo ottimo come si che cazzo gioca 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 tira dai 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 che buona dai qui fu mi cazzo faccia romano faccia romano l Julie va a banca era bello si enriesse vede no perche vinda 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 Vittiamoci! Dai 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 dai! Da lì si si si! Bravo Ale! Guardate le abbiamo chiamate! Non neanche toccate! È benvenuto! Neanche toccate! Neanche toccate! Bravo Ale! Dai arbitro! Sei preso bene? Eh no esatto! Infatti ho pienamente ragione! Non ho niente da dire. Dai, dai, dai! Vita, dai! Dai, raga, teniamo duro! Non ti innervosi. Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! No! Fuori! Fuori! Si che non va! Si che non va! Dai, dai, dai! Bravi! Vai! Uno sotto, uno sotto! Io finisco! Andre! Calvo Iaccio, arbitro! Non fare ballo! Arbitro! Arbitro! Quanti calcioni vuoi far tirare? Deve cadere per terra! Raga, come state? Dai, raga! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Non aver paura di giocare! Calvo, vieni tu, vieni tu! Calvo! Calvo, Calvo, vai via! Calvo! 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 Bravo Arbitro, bravo, bravo, sono tutti chiamati, complimenti Arbitro, bravo, bravo. Guarda Harry, guarda Harry! Vita, vita! Arbitro! Arbitro, stiamo facendo diventare una pagliacciata! Vieni adesso qua! Vieni adesso. Guarda Zika, dove va bene? Vieni adesso. Harry, Zilu, Harry, Zilu! Vamo, vamo! 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 Continuiamo! Continuiamo! Dai, dai ragazzi! Dai ragazzi! Dai ragazzi! Dai ragazzi! Siamo in recupero! Non lanciamo a casa ragazzi! Siamo in recupero! Siamo in recupero! Siamo in 4-6-2, sei a 4! Poi da minuto a termine! Gli aveva 3 minuti a termine! De minute de recupero... Prendiamo due minuti da ragazzo, non ho mai dato. Aspetendo un minuto speriamo. Ma non ci posso prendere. Ma se l'hai preso subito. Solo il primo gol, basta. Va bene. Abbiamo aumentato il ritmo, quindi diciamo che non vediamo le cose. Viva la borsa! Viva la borsa! Viva la borsa! Viva la borsa! Bravo, Cava! Prendiamo il minuto per il punto, sono in palo. Viva la manisanza! Sì! Tutti si fa! Non lo trovate! Viva il punto, quindi prendiamo quel carrello! Questa c'è? Sì! Esattamente. Non fa sa 6 e 4. No, se...